In questo video ho raccolto le riprese più belle fatte quando ancora ce l'ha permesso uscire, camminare e abbracciarsi, uniti ce la faremo a ritornare in quei piccoli gesti che oggi sembrano impossibili, vietati da un nemico che ci impedisce di stare vicini, ma anche distanti riusciremo a sconviggerlo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.